Grazie a tutti Ho sbagliato a uccidere Santa La Trinità Voi sapete che la ragazza non voleva contatti di nessun tipo con me Mi faccio suora Voi sapete che per circa tre anni ho insistito e tentato inutilmente di contattarla Pronto chi è? Pronto? Sia voi che lei È per te Santa Dovevate capire la situazione Si firma Giuseppe E a secondare la mia volontà Papà Sa tutti i nostri passi Non potevo dirvi che ero pronto a ucciderla Siamo le mani in psicologia Voi dovevate capirlo Dall'intensità del mio interesse per la ragazza O mia O di nessuno Comunque adesso è finita È morta bene la bella Santa Come una vera cristiana Dall'intensità del mio interesse per la ragazza O di nessuno 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 O di nessuno